Ciao a tutti, io mi chiamo Davide, bentornati su Podcast Italiano, il podcast canale YouTube per imparare l'italiano attraverso contenuti autentici e interessanti. Qualcuno di voi mi ha chiesto di parlare della situazione politica italiana dopo le elezioni dello scorso 4 marzo 2018. Immagino che da stranieri questa situazione possa sembrarvi decisamente confusa e bizzarra e dunque cercherò di chiarirvi un po' le idee. Innanzitutto un disclaimer, io non sono un esperto di politica e dunque non farò un episodio dettagliato e complicato, spero. Anche perché sospetto che molti di voi non siano al corrente di come funziona la democrazia italiana e dunque direi di iniziare proprio da qua. Come funziona la democrazia italiana? La forma di governo dell'Italia è una repubblica parlamentare che significa che abbiamo un Parlamento che ha la funzione legislativa, dunque fa le leggi. Il Parlamento è composto da due Camere, la Camera dei Deputati e il Senato. Inoltre ci sono due cariche molto importanti che sono quella del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche noto come Presidente del Consiglio, Primo Ministro o Premier. Il Presidente del Consiglio è a capo del governo che detiene il potere esecutivo, ovvero attua le leggi. Presiede, quindi è a capo del Consiglio dei Ministri ed è di fatto la più importante figura politica in Italia. Il Presidente della Repubblica, invece, che per le sue funzioni potrebbe essere paragonato un po' alla regina d'Inghilterra, re di Spagna, diciamo a monarchi di altri paesi, ha tra queste funzioni una che è molto importante in questa fase in cui ci troviamo adesso. Il Presidente della Repubblica si consulta con le forze politiche, soprattutto quelle che hanno ottenuto molti voti o che hanno vinto le elezioni per numero di voti, e nomina il Presidente del Consiglio. Gli dà quindi l'incarico di formare un governo, una squadra di governo composta da ministri. Questo è molto molto importante perché in Italia, dunque, il Presidente del Consiglio, il Primo Ministro, non viene eletto dai cittadini, per questo non si parla di Repubblica Presidenziale come negli Stati Uniti o in Francia, ma viene eletto dal Presidente della Repubblica che gli dà l'incarico. I cittadini, invece, votano i parlamentari, la composizione del Parlamento, ed è per questo che si parla di Repubblica Parlamentare. I parlamentari, a loro volta, ogni sette anni eleggono un Presidente della Repubblica, quello attuale si chiama Sergio Mattarella, che, come abbiamo detto, dà l'incarico di formazione del governo e questo è il ciclo di pesi e contrappesi del sistema democratico italiano. Ma quindi che è successo nelle ultime elezioni? Dunque, il 4 marzo 2018 si sono svolte le elezioni parlamentari. Come abbiamo detto, abbiamo votato per la composizione del Parlamento e la situazione che si è venuta a creare, e che in realtà esiste già da qualche anno, è quella di un vero e proprio tripolarismo, ovvero tre poli, tre forze politiche principali. Il Partito Democratico, principale partito di sinistra e pilastro del governo precedente, ha ottenuto un risultato pressoché disastroso del 18,72%, il suo minimo storico. A livello di singolo partito ha vinto il cosiddetto Movimento 5 Stelle con il 32,6%. Il Movimento 5 Stelle, oppure M5S, è un partito di stampo populista che intende superare i partiti di sinistra e di destra e posizionarsi come un partito anti-establishment. I suoi membri spesso vengono chiamati pentastellati, da penta, ovvero 5 in greco, a volte anche Grillini, dal nome del suo fondatore Beppe Grillo, comico, che ha fondato di fatto il Movimento e che adesso è una figura di secondo piano e comunque non è mai entrato in Parlamento per questioni, per precedenti giudiziari, ma che per molto tempo è stata la figura principale. Dunque, Grillini, spesso con tono ironico o dispregiativo. Uno arriva qua e dice che io sono Stalin, Schultz, un tedesco, che se non era per... i tedeschi dovrebbero ringraziarlo Stalin, perché Stalin ha vinto l'ultima guerra contro i nazisti, l'hanno vinta i russi con Stalin e se non vinceva Stalin, Schultz era dentro il Parlamento con una svastica sulla fronte e se non è successo grazie a Stalin e mi danno lo stalinista a me. Tu offendi me e offendi dieci milioni di italiani! Schultz, vedi di andare a far culo perché... Ed oggi la figura più importante del Movimento ed è una figura centrale in questa fase della politica italiana è Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento. Il Movimento 5 Stelle, come dimostra questo risultato esorbitante, in dieci anni, da... in quasi dieci anni è cresciuto tantissimo. Dal 2009, quando è nato, ad oggi è passato da essere un partito... un nuovo partito al partito più votato, il primo partito d'Italia. E inizia l'epoca di una politica che lavora per le persone fuori dalle istituzioni, per i cittadini. Ogni sei mesi ci dicevano state per morire, è finita, siete un fuoco di paglia, è finita. E oggi siamo qui con un consenso ancora maggiore rispetto al 2013. E se nel 2013 siamo entrati in Parlamento come opposizione, stasera finisce l'era dell'opposizione e inizia quella del governo del Movimento 5 Stelle. A quelli là che ci hanno governato per vent'anni hanno anche il coraggio di venirci a dire che vogliono cambiare le cose. Perché non le avete cambiate quando stavate governando? Perché? Perché? Però in Italia si possono anche formare le coalizioni e alle ultime elezioni si sono presentate due coalizioni. Una di centrosinistra, abbiamo già parlato del Partito Democratico che di fatto era l'unica forza davvero consistente di questa coalizione. E poi la coalizione di centrodestra formata da tre partiti. Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che insieme hanno ottenuto il 37% dei voti. La figura più importante della coalizione di centrodestra è quella di Matteo Salvini, leader della Lega. La Lega in passato si chiamava Lega Nord. La Lega Nord era un partito per molti aspetti xenofobo che si proponeva di mettere al primo posto il Nord Italia. E come potrete capire non era molto apprezzato al Sud Italia. Per questo misteriosamente scomparsa la dicitura Nord ed è rimasta solamente Lega. E questa tattica ha funzionato perché adesso la Lega, che non si occupa più del Nord Italia ma si occupa, diciamo, della lotta all'immigrazione clandestina principalmente, ha vinto moltissimi voti raggiungendo il 17%. Ebbene se qualcuno oggi, ieri o domani pensa che il futuro della Lega sia ancora quello di un partitino, servo di qualcun altro, di Berlusconi o di Forza Italia, ha sbagliato a capire. Noi non saremo più schiavi di nessuno. Non voglio tornare al 4% per portare a casa 20 parlamentari di cui non me ne faccio un cazzo. Voglio cambiare questo paese. Voglio cambiarlo. Ma le nostre condizioni... Ma della coalizione di centrodestra fa anche parte un personaggio che immagino molti di voi abbiano... abbiano visto e di cui abbiano sentito parlare. Ovvero Silvio Berlusconi, noto anche per le sue frequenti e infelici battute e gaffe anche in campo internazionale. E aggiungo una cosa ancora. I would like to add one more thing. Sure. I consider there's the flag of United States, not only a flag of a country, but is an universal message of freedom of democracy. Thank you, sir. The English is very good. Ti non a dire Berlusconi a casa, creandomi un certo disagio, perché disponendo di 20 case non saprei in quale andare. E benché non possa essere eletto in Parlamento perché è stato condannato per frode fiscale, quindi secondo una legge anticorruzione è ineleggibile, rimane comunque al capo del suo partito, Forza Italia, ed è una pedina fondamentale, importantissima nello scacchiere della politica italiana. Dunque, Movimento 5 Stelle da solo ha ottenuto il 32%, tre partiti di centrodestra insieme hanno ottenuto il 37%, ma nessuna di queste due forze politiche da sola può governare e può avere la maggioranza. Qual è dunque la situazione ora? Per formare un governo è necessaria un'alleanza, ma questa alleanza non è stata ancora trovata e a questo punto dopo due mesi non si sa se verrà trovata. In questi due mesi ci sono stati molti colloqui, molti dialoghi tra le forze e sostanzialmente il Movimento 5 Stelle sarebbe disponibile ad un accordo con la Lega, ma non sarebbe disponibile ad accettare Silvio Berlusconi, Forza Italia, all'interno di questo governo, mentre Forza Italia invece pretende di far parte di questo governo, così come la Lega vuole mantenere questo patto, questa coalizione di centrodestra e non vuole tradire, tra virgolette, Berlusconi. Dall'altro lato Luigi Di Maio del Movimento ha anche provato ad allearsi con il Partito Democratico, ma senza successo perché il Partito Democratico, nonostante alcuni all'interno del partito vogliano, siano più aperti al dialogo, sostanzialmente si è rifiutato di accettare un ruolo collaborativo e sostenere un governo, anche perché durante questi anni il Movimento 5 Stelle è stato molto duro a parole nei confronti del Partito Democratico e poi nel 2013 praticamente c'era la stessa situazione e il Movimento 5 Stelle all'epoca non accettò di formare un governo con il Partito Democratico. Matteo Renzi, ex premier e ex segretario, ovvero capo del Partito Democratico, si è espresso negativamente rispetto a un possibile accordo e nonostante lui non sia più né presidente del Consiglio né capo del partito, segretario del partito, rimane comunque una voce molto influente, probabilmente la voce più influente del partito ed è per questo che l'accordo sostanzialmente non è andato a buon fine. Come abbiamo detto sono passati ormai più di due mesi e tre tornate di consultazioni, ovvero dialoghi intavolati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con le varie forze politiche che non hanno portato a nulla. Sergio Mattarella non ha potuto dare l'incarico a nessuno perché nessuna forza, come abbiamo detto, ha la maggioranza. Nel corso dei colloqui di oggi ho chiesto alle varie forze politiche, particolarmente a quelle più consistenti, se vi fossero nuove possibilità d'intesa, se ne fossero emerse, registrando che non ve ne sono. Come è evidente, non vi è alcuna possibilità di formare un governo sorretto da una maggioranza nata da un accordo politico. E allora che si fa? A meno che improvvisamente, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, Lega e Movimento 5 Stelle non trovino un accordo, il che sembra difficile perché la Lega non vuole abbandonare Silvio Berlusconi, c'è la seria possibilità che si vada di nuovo alle urne, ovvero che si vada di nuovo a votare. Quando? Non si sa, perché Lega e Movimento 5 Stelle spingono per votare a luglio, però il presidente Mattarella non vorrebbe, non è molto favorevole a questa... a questa eventualità, perché luglio vorrebbe probabilmente dire forte astensionismo, ovvero molte persone che sono... che sarebbero in vacanza non andrebbero a votare. E seconda cosa, luglio è abbastanza... è relativamente vicino, e quindi probabilmente non ci sono i tempi tecnici, ovvero non c'è tempo per preparare una... delle nuove elezioni. Non vi sono i tempi per un voto entro giugno. Sarebbe possibile esloggerle in piena estate, ma sinora si è sempre evitato di farlo, perché questo renderebbe difficile l'esercizio del voto agli elettori. Si potrebbe quindi fissarle per l'inizio di autunno. Sergio Mattarella ha ipotizzato dunque la formazione di un governo neutrale, temporaneo, tecnico, che... chiamatelo come... come volete. Può avere vari nomi che sostanzialmente non sarebbe un governo politico, né di destra né di sinistra, ma che sarebbe semplicemente... avrebbe la funzione, il compito di traghettare, di portare il paese fino a probabilmente nuove elezioni o fino al raggiungimento di un accordo tra le forze politiche che si sono dimostrate le più forti in queste elezioni. Ma nel frattempo, in mancanza di accordi, consentano, attraverso il voto di fiducia, che nasca un governo neutrale di servizio. Un governo neutrale rispetto alle forze politiche. Riassunto di tutto questo? Un gran casino, che è esattamente come si potrebbe riassumere la politica italiana in tre parole. Pensate solo, dopo due mesi, più di due mesi, dalle elezioni siamo senza governo, che è davvero una situazione paradossale e anomala. Si potrebbero dire tante cose sulla politica italiana, ma non che i suoi governi siano caratterizzati da stabilità e solidità. Basti pensare a questa cifra. Dal 1948, quando è entrata in vigore l'attuale Costituzione, che ci ha reso una repubblica parlamentare, ci sono stati ben 64 governi, quindi 70 anni e 64 governi. Un mandato di un governo dovrebbe durare in teoria cinque anni, ma in realtà la media per governo è di circa poco più di un anno. Adesso addirittura il governo nemmeno c'è. Dunque abbiamo appena fatto le elezioni e il risultato è un vero e proprio nulla di fatto. Vedremo come andrà a finire. Ci sono sviluppi continuamente, anche se in realtà è uno stallo. Cioè ci sono molte parole, ma molti pochi fatti. Dunque vedremo se per caso le cose cambieranno nei prossimi giorni. Le cose effettivamente sono cambiate. Ci sono degli sviluppi proprio delle ultime ore di cui è importante parlare, se no questo video non ha alcun senso. Dunque, proprio nelle ultime ore sembra che si sia trovato un accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle. Io nel video dicevo che era difficile, però improvvisamente questo accordo sembra essere stato trovato tra Di Maio e Salvini e il ruolo di Berlusconi in questo governo sarebbe di, diciamo, alleato della Lega che però non impedisce alle due forze di formare un partito. Quindi non darebbe la cosiddetta fiducia al governo, si asterrebbe perché in Parlamento bisogna votare la fiducia al governo. Se in pratica è un modo di dire sì, ci fidiamo, diamo la fiducia a questo governo e il governo quindi può lavorare. È una fase che deve essere superata all'inizio di ogni nuovo... ogni nuova legislatura. Quindi questo sarebbe lo sviluppo delle cose. Non si sa ancora se... chi sarà il premier, probabilmente né Di Maio né Salvini, ma una persona terza. Però non si sanno altri dettagli, per esempio, chi saranno i ministri. In ogni caso mi sembrava importante fare questo aggiornamento. Seguite anche voi la situazione perché in queste ore si sta... si sta, diciamo, sta mutando gli scenari che si erano venuti a creare, quindi non ci sarà nessun voto apparentemente, dunque è cambiato tutto molto molto in fretta. Quindi continuiamo a seguire la situazione, però a quanto sembra, con grande probabilità ci sarà un governo, Lega, Movimento 5 Stelle, come era in realtà auspicato da molti dopo le votazioni del 4 marzo. Torniamo al video. Vi consiglio di seguire la situazione, magari ora che sapete qualcosa in più potrete comprendere meglio cosa sta succedendo. In ogni caso la politica italiana non annoia mai, è sempre frizzante e mai banale. E dunque spero di avervi chiarito le idee. Se avete visto questo episodio su YouTube potete riascoltarlo come episodio audio. Potete cercare su iTunes o sulla vostra applicazione di podcast preferita, Podcast Italiano. Vi ricordo che ho anche una nuova serie di episodi chiamati Riflessioni senza trascrizioni, che non hanno trascrizioni, mentre questo episodio ha l'intera trascrizione di tutte le cose che ho appena detto. Dunque sono difficili, sono usato parole complicate, ma potete rileggere tutto e dunque potrete capire tutto ciò che ho appena detto. Questo per oggi è tutto, spero vi sia piaciuto e ci vediamo. Alla prossima! Grazie a tutti!